Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 16 aprile del 2020. Allora, la notizia fondamentale sui giornali di oggi è che la Lombardia vuole riaprire, è così che titola il Corriere della Sera. Il titolo è di quelli che dicono ma come, ci sono i morti, volevate chiudere prima, adesso volete riaprire, siete completamente impazziti. Poi dopo, vai a leggere bene, perché forse magari converrebbe leggere qualche articolo, gli articoli poi ovviamente portano anche la cronaca di quello che è richiesta, e questa grande apertura lombarda, che vuole riaprire, e lo capisco bene che voglia riaprire, pensate detto da me se non si deve riaprire, che Repubblica media con la sbandata Lombarda, cioè il fatto che la Lombardia voglia riaprire per Repubblica è la sbandata Lombarda, mentre per il Corriere della Sera la Lombardia vuole riaprire, è un titolo più fattuale. Insomma, la riapertura è dal 4 maggio, cioè vogliono riaprire il 4 maggio, giorno in cui, peraltro, lo stesso decreto ultimo del DPCM del Consiglio dei Ministri ha previsto che gradualmente si dovrà riaprire l'Italia. Non è che hanno chiesto domani mattina a riaprire, vogliono gradualmente riaprire, e domani mattina forse sarebbe il caso che si riaprisse qualcosa gradualmente, anche perché vorrei che vi fosse chiaro, in Spagna stanno riaprendo, in Germania non hanno mai chiuso, in Spagna, peraltro, alcune cose non hanno mai chiuse, in Olanda non hanno chiuso, in Francia non hanno chiuso, in Gran Bretagna alcune imprese non hanno chiuso, cioè, ragazzi, il problema vero è che noi fra sei mesi racconteremo del lockdown italiano, come il modello italiano, cosa che stiamo ancora facendo. Io vorrei che vi ricordaste, bello, fissato nella vostra testa, che in Germania, al giorno di Pasqua, andavano al parco come se nulla fosse, mentre noi facevamo questa specie di terrorismo nei confronti di quelli che volevano fare le loro scampagnate, che non sono state fatte da italiani rispettosi, no, perché sennò poi racconteremo il modello italiano, il lockdown seguito da tutti, no, gli altri non hanno fatto il lockdown, noi stiamo perdendo di più rispetto agli altri paesi perché siamo stati molto più colpiti in una zona come la Lombardia, ma soprattutto perché abbiamo chiuso tutta l'Italia in maniera completamente, diciamo, incontrollabile. L'Opalco, troppe fabbriche in deroga, scrive sul fatto. Sapete, se L'Opalco, non mi ricordo male, è il virologo che su Twitter disse quando Johnson prese la malattia e cioè che la fortuna è cieca ma il virus ci vede benissimo, questa è la battuta di L'Opalco, secondo me un virologo che dice una cosa così rispetto a un essere umano non ha molto diritto, con tutto il rispetto, di poter pontificare sui giornali. Mi rendo conto che questa battuta è molto simile rispetto alla violenza che è sempre fatta col sorriso da parte del fatto quotidiano per chi non la pensa come lui. E poi, sul messaggero, il viminale ai prefetti, più controlli sulle imprese! Perché le imprese oggi vogliono lavorare e sembra che ci siano dei padroni cattivi che vogliono uccidere i propri dipendenti. Voi pensate che sia questa la situazione? O pensate che le imprese, più che le task force, 300 nominati nelle task force, gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i baristi, tutti vogliono riprendere perché sanno perfettamente che gli stipendi a queste task force gliele pagano loro, non è che vengono pagate dagli alberi, dall'Europa. Cioè i soldi, le imposte, nascono sui redditi e se non ci sono i redditi, non ci saranno le imposte a voglio a far debiti. I debiti sono qualcosa che prima o poi dovremo pagare. Se non riaccendiamo il paese il prima possibile, chi li paga? Se un commerciante non lavora, chi paga i suoi dipendenti, chi paga le sue imposte, se un barista non lavora, come campa il barista? Se un NCC non fattura, come campa l'NCC? Anche se non fattura, ma come campa con Babbo Natale, con le task force di Colau? Queste ovviamente non ci arrivano. Ma la cosa più bella e più straordinaria è quella del Corriere della Sera. Perché seguitemi bene per favore, perché ci ho lavorato un pochino questa mattina e ho visto il Corriere della Sera di questa mattina. Perché basta mettere in fila le prime dieci pagine e tu capisci che il Corriere della Sera sta facendo una campagna fortissima, fortissima contro la regione Lombardia. Toc toc! Ma vi sembra normale? Nessuno l'ha citato che in una delle task force quelle di Colau hanno piazzato un consigliere d'amministrazione del Corriere della Sera. Cioè, vi spiego bene. Colau, task force, chi c'è? Questo Simon Tacchi, avvocato di Cairo che gli fece prendere il giornale e che lo ha consigliato anche nella sua incredibile causa per il Palazzo. Questo Simon Tacchi oltre a essere consigliere d'amministrazione del Corriere della Sera, legittimo, è un grandissimo avvocato dello studio a rete, è anche nella task force di Colau per la fase 2. Nessuno di voi metterà mai in relazione una cosa di questo tipo, però voglio semplicemente darvi il clima, come si dice, il rumore di fondo del Corriere della Sera di questi tempi perché il Corriere della Sera di oggi, ve lo leggo, vi faccio i titoli delle prime dieci pagine e poi ditemi se sto sbagliando. Bene, la prima pagina è La Lombardia vuole ripartire e su questo voglio dire che è fattuale perché non si può criticare un titolo fattuale e di cronaca come quello di prima pagina. Sotto il titolo di prima pagina cosa fa il Corriere della Sera? Bella fotona sulle RSA, l'inchiesta sulle residenze per gli anziani. A pagina 15 del Corriere della Sera, ma a pagina 1 del giornale, sempre di Milano con Del Vigo, ma a pagina 15 del Corriere della Sera, si racconta una cosa molto banale che sono state sequestrate 25 case di cura, che le case di cura sono un disastro in tutta Italia, ma l'inchiesta per il Corriere della Sera è soltanto sulle RSA della zona in cui ci sono stati più malati e più contagiati di Covid e cioè la Lombardia. Contano solo le RSA della Lombardia, tutto il resto d'Italia, 25 chiuse, le ispezioni ieri vanno a fine pagina 15, ma le due Lombarde, grande inchiesta, non vuol dire colpevolezza, chiaro? Ancora non si ricordano forse i danni che hanno combinato quelli del Corriere della Sera durante Mani Pulite, tra l'altro è straordinario perché Del Vigo oggi ci ricorda come ci sia di fatto un diktat per la RAI, nella RAI, per non parlare delle case di cura in tutti gli altri regioni che hanno inchieste da procura, morti, contagiati, cività vecchia è un disastro, ma nessuno ne parla perché quelle non sono funzionali alla grande battaglia politica che oggi si sta combattendo, cioè lo Stato contro il paese che ha avuto più morti, la Lombardia, e le ha avuti perché ha avuto i morti? Per colpa di Fontana e Gallera, questo è il principio di fondo, prima pagina, la Lombardia vuole ripartire, foto, l'inchiesta sull'RSA, colpa di Gallera, di Fontana, poi pagina 2, taglio basso, anche la Confindustria e Conto Fontana è il non detto, interventando il presidente della Confindustria di Bergamo che dice ci vogliono linee guida nazionali, cioè io lo conosco il presidente della Confindustria di Bergamo, sono certo che il presidente della Confindustria di Bergamo sa che si deve riaprire il prima possibile e sta facendo di tutto per riaprire il prima possibile ma il titolo che è nel suo pezzo e quindi sventurato il presidente della Confindustria di Bergamo che ha avuto anche un passato politico avrebbe dovuto capire in quale contesto veniva messo, invece il contesto in cui è stato messo è quello che sembra che sia contrario alle riaperture, ci vogliono linee di guida nazionali, è chiaro che ci vogliono, è ovvio, lo sa benissimo il presidente della Confindustria di Bergamo ma attitolando così lo metti in contrasto con Fontana e Gallera. la Confindustria che è contraria secondo loro. Pagina 3 retroscena sapete perché Fontana e Gallera vogliono riaprire? Perché c'è un blitz di Salvini contro Conte il retroscena è che è Salvini che sta facendo questa cosa verso Conte basterebbe che vi posso dire basterebbe banalmente guardare che cosa cavolo vogliono i Lombardi quelli che sono agli arresti domiciliari e quelli che vorrebbero prima o poi riaprire il 4 maggio il 4 maggio non domani mattina che il retroscena di Salvini mi sembra banale ma non è finita pagina 3 c'è il retroscena di Salvini cioè Salvini che etero dirige Fontana e i Lombardi che vogliono riaprire ma non è finita non è finita la pagina dopo aziende 65.000 lavorano senza permesso ce n'è financo una che fa attrezzi di attrezzi per diciamo di ginnastica e dice che è aperta per le come possiamo dire per le per le RSA insomma le aziende cattive che vogliono riaprire non sono quelle lombarde quelle di tutta Italia però avete capito la Lombardia vuole riaprire la Confindustria non la vuole è una mossa politica di Salvini le imprese cattive che lavorano senza permesso che sono lì che lavorano senza permesso e sembrano dei delinquenti sembrano dei mafiosi avranno avuto interpretazioni dei codici a teco che è una minchiata che solo in Italia le aziende aprono per i codici a teco e diventano un crimine perché questa sarà la prossima burocrazia che mettiamo cioè incidenti sul lavoro sanità pubblica burocrazia permessi amministrativi licenze imposte e adesso ci romperanno l'anima anche sui rispetti delle nuove norme salutari decise da Burioni e degli altri vado avanti sul Corriere della Sera ripeto la Lombardia vuole chiudere la Confindustria è contraria c'è un blitz che sta facendo Salvini contro Conte le aziende aprono in maniera irregolare queste egoiste la task force di Palazzo Chigi la cosa più inutile di tutte la sesta pagina del Corriere della Sera è arrabbiata sapete perché non perché non conterà nulla non perché sono 17 persone sapete perché è arrabbiata la task force dove c'è Simon Tacchi che è l'avvocato del Corriere della Sera ed è il consigliere dell'amministrazione del Corriere della Sera che è nella commissione di Palazzo Chigi sapete perché è arrabbiata perché la Lombardia vuole aprire io dico è fantastico ieri dovevano fare una videoconference in 17 non sono riusciti a farla ma il Corriere della Sera forse gli avrà detto Simon Tacchi sono arrabbiati perché la Lombardia ha fatto questa cosa che vuole riaprire dice no siamo noi che dobbiamo decidere quando e come riaprire a che cosa serviamo noi e io la trovo fantastica ma non è finita non è finita dopo che abbiamo scoperto che l'unica cosa per cui è arrabbiata una fantomatica per il Corriere della Sera sempre solo Corriere della Sera vi sto leggendo la pancina dopo il Corriere della Sera sapete a cosa è dedicata blitz della finanza in Lombardia nel Merino i rapporti tra Regione e RSA cioè in maniera totalmente acritica vanno a prendere un'inchiesta che potrà anche rivelarsi con nulla di fatto mentre in tutta Italia direi in tutto il mondo la questione dell'RSA sta scoppiando ma solo quella in Lombardia invece è un problema e poi fantastico l'ultima pagina sono le prime 10 pagine del Corriere della Sera Milano già 2000 vittime di Covid tasso depressi più che raddoppiato insomma avete capito qual è il concetto il Corriere della Sera Fontana dice che vuole riaprire fa la prima pagina in cui dice che la Lombardia vuole riaprire ci mette sotto l'inchiesta sull'RSA dicendo pensate ai vostri guai giudiziari poi ci spiega che la Confindustria quella di Bergamo è contraria poi ci fa un retroscena che ci dice che è tutta colpa di Salvini se vuole riaprire ed è una mossa politica poi ci dice che le imprese 65.000 non solo in Lombardia fanno le furbette e vogliono riaprire poi ci spiega che la task force inutile di Palazzo Chigi è arrabbiata con la Lombardia perché vuole riaprire poi ci dice che c'è un blitz della finanza in Lombardia nell'RSA e poi nella pagina dopo ci dice che a Milano muoiono come mosche ecco questo è il giornale della borghesia milanese ma secondo voi rappresenta veramente la borghesia milanese questo giornale qua toc toc Urbano Cairo io ti voglio bene ho lavorato anche per te ti conosco so che sei una persona seria ma come ti viene in mente vabbè l'editore effettivamente forse non ha nessun peso all'interno del giornale mettiamola così però insomma ragazzi ma qua sembra che ci siano una massa di delinquenti di politici lombardi che sono dei delinquenti che ci vogliono uccidere io non penso che sia così ve lo dico molto francamente nel frattempo invece un bel pezzo mi è piaciuto oggi ve lo segnalo anche questo sul Corriere della Sera ho letto anche gli altri giornali non vi preoccupate ed è il pezzo di sul Corriere della Sera sul motivo per il quale i neri non si ammalano prima pagina del Corriere della Sera vi invito a leggere questo pezzo vale il prezzo del Corriere della Sera ma perché vale il prezzo perché quando leggete questo pezzo del Corriere della Sera capite che la scienza che ha delle decisioni straordinarie sulla nostra vita che ha delle certezze come quelle dell'opalco che la fortuna è cieca mentre il virus ci vede bene quando parla di Boris Johnson e questi qua che vanno in televisione dicono fake news contro fake news e che fanno i medical facts come li chiama Burioni il nuovo savonarola della medicina e della scienza italiana tu leggi poi che cosa hanno capito i medici sul fatto che i neri non si ammalano e Remozzini in un pezzo straordinario sul Corriere della Sera ci dice che non hanno capito nulla dice forse perché hanno fatto il vaccino dell'antitbc quella cosa che girava su internet no i neri non si ammalano perché hanno fatto il vaccino antitbc non lo sanno perché non si ammalano oppure perché le alte temperature in Africa fa sì che i neri in Africa siano poco contagiati rispetto all'Europa e anche questa cosa delle alte temperature non è sicura oppure c'è un fatto genetico che è un'altra ipotesi che mettono i medici sul fatto che i neri non si ammalino posto che hanno visto che in Italia nelle zone in cui la percentuale dei neri rispetto ai bianchi è del 9% a Bergamo in realtà la percentuale degli ammalati è molto inferiore anche perché sono giovani dice ma non basta per dire che siano soltanto perché sono giovani e l'altra cosa straordinaria è che negli Stati Uniti nel focolaio di New Orleans dove c'è un altissima percentuale di neri di persone colorate come dicono loro non so se si può dire colorate in questa zuppa beh insomma queste persone qui invece si ammalano molto di più che in Italia insomma sapete qual è la sintesi? non ci hanno capito nulla il che è normale è una nuova malattia non sanno bene quali sono i farmaci non sanno bene quanto è il decorso non sanno bene il suo funzionamento però dall'altro della loro ignoranza tecnica spiegano a noi che dobbiamo stare zitti e ascoltare la loro ignoranza fantastico sulla task force Capezzone e Darold invece di dire quello che scrive il Corriere della Sera cioè che la task force è arrabbiata con la Lombardia che dice vogliamo ripartire il 4 maggio quando è previsto anche dal governo se Dio vuole beh invece mi sembra molto più serio Capezzone e Darold che ci spiegano oggi come sapete che cosa vuole questa commissione vuole lo scudo penale perché in questo paese è la verità se tu non hai uno scudo penale abbiamo fatto tante di quelle leggi che piacciono a Travaglio e a Grillozzi in questi anni ma non solo a una parte giustizialista del PD che la gente qua non ci vuole venire non si assume una responsabilità che è il vero tema di questo paese quindi vorrebbero lo scudo penale e non ci sanno noi che ci siamo a fare chiedono in questa specie di comitato con 20 persone l'altra cosa fantastica è la questione di Trump che sostanzialmente blocca i fondi all'OMS Corriere e Stampa scandalizzati diventa un caso dice Gaggi il direttore come si chiama Paolo Mastruilli sulla stampa la reazione globale contro Trump che vuole togliere i fondi alla Cina l'Europa e l'ONU sono contrari alla posizione di Trump ci mancherebbe altro che l'ONU fosse favorevole a togliere i soldi all'OMS che mi sembra che più o meno è una sua affiliata ma comunque sia lasciamo perdere questo dettaglio vi dovete leggere Daniele Ranieri sul foglio allora al foglio sta simpatico Trump no gli sta sulle balle sì ne hanno scritto il peggio possibile pure Daniele Ranieri vi spiega per quale motivo oggi quello che dice Trump non è una bugia oggi vi spiega Daniele Ranieri per quale motivo secondo voi è legittimo che all'interno dell'OMS non siano stati accettati Taiwan perché perché non è riconosciuto dalla Cina e non è un paesino del cavolo e sulle questioni delle malattie non è imbarazzante la posizione di Taiwan è una posizione sacrosanta e nell'ampieno epicentro di queste malattie Taiwan e non è stato accettato perché la Cina non la vuole e il direttore del fondo racconta Ranieri si è presentato da Xi dicendo quanto siete bravi quanto siete bravi nell'aver scovato questa e aver tenuto in piedi un grande apparato sanitario durante questa vostra piccola epidemia influenzale come disse il direttore dell'OMS Ranieri sul foglio ci spiega perché c'ha tante ragioni Trump nel fare una mossa negoziale come questa per non volere continuare a finanziare l'OMS filo cinese infine la mediazione di Conte sul MES beh qui i giornali già stanno andando dall'altra parte e cioè il Corriere della Sera su questo non gliela perdona e dice lo spread è arrivato a 2.40 colpa di Conte che non vuole fare il MES che non è Conte del Movimento 5 Stelle che non vuole fare il MES e lì la situazione è divisa tra il centrodestra Berlusconi oggi c'è un pezzo della Carfagna sul giornale che dicono utilizziamo questo MES perché è senza condizioni e una posizione invece del Movimento 5 Stelle a N e scusatemi Meloni e Lega cioè si è completamente disaggregato il panorama politico che dicono invece in tutti i modi questo MES non lo dobbiamo usare la Reiklin dice solo grazie all'autorevolezza dei gentiloni che stiamo andando avanti perché stupisce l'out-out che fa Conte l'Italia o Eurobond o morte e questa è la posizione diciamo del Corriere della Sera quella che vuole l'Europa quella di Gentiloni quelli di Reiklin quelli che hanno sempre detto tutto quello che fa l'Europa fa bene tutto no? tutto anche la battuta di Ursula von der Leyen che dice l'altro giorno in un'intervista non prenotate le vacanze questi sono tutti zitti e muti anche sulla Lagarde praticamente non hanno detto assolutamente nulla grazie al cielo oggi invece la Banca Centrale Europea compra titoli di Stato lì Travaglio cerca e annusa su questo una posizione imbarazzante perché da grillino e da portavoce di Conte deve trovare una mediazione e nella mediazione cerca di dire una cosa giusta e poi ne dice una completamente sbagliata non capendo assolutamente nulla di economia dice siccome la cornice del MES nuovo è completamente nebulosa e se questi non ci sono dubbi lo ha detto il Premier olandese che dentro quel MES c'è tutto il contrario di tutto beh insomma è difficile non ci sono per ora le condizionalità ma nessuno può esclidere che a maggioranza qualificata le condizionalità ti presto oggi i soldi non ti chiedo nulla in cambio ma in futuro potrei chiederti qualcosa questa è la tesi di Travaglio e diciamo dell'anturale di Palazzo Chigi ed è una tesi che farebbe essere l'Italia contraria a portarsi a casa questo prestito a pochi soldi di 36 miliardi nel frattempo però poi ci spiega che lo spread ieri è aumentato sapete perché? perché come è che dice perché vogliamo prendere il MES esattamente per il contrario cioè perché l'Italia non sta decidendo nulla come al solito ma comunque direi che parlare di economia e metterci Travaglio vicino è come mettere l'olio e l'acqua sono due robe che non le possiamo mettere insieme si dice l'olio e l'acqua non lo so comunque avete capito il senso cioè è uno che si e no capisce il codice di procedura penale che sa a memoria ma il cui non riesce a collegare diciamo lo spirito generale figuratevi un po' l'economia però il tema fondamentale del MES è che qui ci si divide su un aspetto fondamentale guardate è molto semplice ci si fida o no dell'Europa perché le condizioni con questo MES non ci sono chi come Berlusconi Carfagna Tajani una gran parte del PD si fida dell'Europa dice ma perché non prendersi 35 miliardi che ci li regalano regalano come prestiti perché non c'è tasso di interessi chi non si fida io sono uno di quelli devo dire che quando ti prendi prestiti all'Europa in cui c'è la possibilità che qualcuno ti spari contro beh io ci starei sempre molto attento certo se poi servono perché se non neghi beh quando uno nega prende anche la soluzione migliore ma è questa la soluzione migliore insomma non la faccio così semplice direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento con la zuppa di domani e con la prossima battaglia dei giornali italiani contro la Lombardia più morti che in ogni altro posto perché colpa di Fontana e di Gallera anche Giannini oggi un po' lo dice in questi termini sulla Repubblica ma da lì ci sta ma da Corriere della Sera mi sembra incredibile ciao grazie a tutti